Di fatto quello che conta è, esiste la politica? Sì. Esistono nuclei di potere politico? Sì. Si configurano come dei grandi stati, dove grandi vuol dire estensione, grande? Sì. Dunque sono sovrani? Sì, andateli a spiegare voi alla Cina che essa non è sovrana e che la sovranità è una brutta cosa. Metà dei nostri problemi nasce dal fatto che noi europei siamo quelli che hanno inventato tutto ciò e che adesso si trovano in mano un prodotto un po' obsoleto perché le piccole dimensioni dello Stato nazionale europeo sono non completamente adatte a stare in questo mondo. Ma non perché questo mondo è diventato un mondo liquido e noi siamo troppo solidi. È vero il contrario, è diventato un mondo solido ancora che noi come europei siamo troppo liquidi. Cioè l'Unione Europea non è un soggetto sovrano, cosa che si vede tutti i minuti.